Anche tu non sai che libro leggere? Anche tu hai cercato per ore ma non hai trovato quello giusto per te? Non è quello giusto per me. E allora per te c'è il libro! Il primo libro chiaramente riconoscibile! Quello giusto per me! Dentro al libro troverai dei singoli che vengono chiamati lettere, che messi insieme formano parole, che messi insieme formano frasi. Queste frasi messi insieme formano la vita di quest'uomo, un comico italiano chiamato Maccio Macchia, che un giorno, così a caso, ha deciso di scrivere la sua autobiografia. Signore, ci puoi dire perché il libro era un bel libro? Lo si può rileggere dopo averlo finito. È scritto in italiano ed è chiaramente riconoscibile. Compra anche tu un libro. Ma io, come faccio ad acquistare il libro? È molto semplice. Basta andare sopra il Google e andare su Amazon e poi sulla barra di ricerche di Amazon scrivi libro e viene fuori libro. Il libro chiaramente riconoscibile. Ma se io sono un vecchio di 99 anni che non ha la tecnologia? Beh, in quel caso puoi andare in una libreria e scegliere libro, visto che è chiaramente riconoscibile, saprai distinguere libro tra un estintore. Si.